Ciao da Riccardo di ebgmodels.it, il sito italiano dedicato alla micromeccanica di precisione hobistica e al modellismo meccanico. Oggi voglio provare insieme a voi degli utensili che mi sono sembrati veramente interessanti e che è praticamente indispensabile avere nella propria dotazione. Quindi andiamo subito a vedere questa videopillola. Oggi voglio provare quindi insieme a voi dal catalogo bengood una cosa molto utile da avere nella propria dotazione che è un set praticamente di alesatori. Gli alesatori sono molto costosi. In questo caso abbiamo qui un set che va da 3 mm fino a 12 mm di alesatori con codolo cilindrico a un prezzo in questo momento di 13,85 euro, addirittura con il 31% di sconto nel momento in cui sto registrando questo filmato. Comunque c'è sempre qualche coupon o qualche sconto. Qua sotto vi metterò il link sempre a questo prodotto. Mi sono incuriosito per vedere se a questa cifra erano delle cose così da buttare via oppure se potevano fare il loro lavoro. Quindi ho voluto prenderli e l'ho voluto recensire e provare insieme a voi in questa videopillola. Bene, gli alesatori sono questi. Vedete? Sono 10 pezzi da 3 a 12. E la cosa subito che mi ha lasciato un po' perplesso è che sono arrivati tutti insieme in questa bustina di plastica. Hanno fatto praticamente in mezzo giro del mondo dentro questa bustina di plastica. Ora sapete che non bisogna mai mettere insieme degli utensili di questo genere perché i taglienti sono molto delicati e andando a sbattere uno con l'altro possono rovinarsi, si possono scheggiare. Quindi siccome ci aspettiamo da un analizzatore la lavorazione di un foro perfettamente cilindrico e con un buon grado anche di finitura interna, rovinare un tagliente è molto facile quindi darebbe luogo poi a delle lavorazioni non consone. Devo dire che in linea di massimo ho controllato i taglienti e non sembrerebbero esageratamente rovinati quindi il trasporto non ha subito troppi scossoni. Però consiglierei agli amici di Banggood di fare una, magari anche a un euro in più però, fare un packaging un pochettino meno spartano di questo. Voglio farvi vedere questa vista ingrandita dei taglienti di questi alesatori in maniera da vedere come sono stati realizzati, vedete? Qua probabilmente qui ci sono dei segni lasciati da, appunto, da come dicevo prima, dal fatto che questi alesatori erano stati messi tutti insieme uno vicino all'altro. Comunque sembrano, sembra una buona lavorazione. Non sono molto rastremati in punta, hanno questa lieve, lieve in bocco diciamo qui, di solito gli alesatori sono un po' più affusolati nella punta per riuscire ad entrare dentro il foro. Bisogna fare un foro di qualche paio di decimi più piccolo affinché l'alesatore possa lavorare, possa esportare il trucciolo dal foro stesso per fare la sua lavorazione. E questo è più piccolino, da 3 mm, anche qui vedete? Qui c'è forse un'imperfezione. Comunque in linea generale è una buona lavorazione. Vedete? Questo è un alesatore che ha lavorato, ha esportato il trucciolo qui in cima praticamente. Uno di quelli che ho sottoposto a prova. Gli alesatori in questione sono degli alesatori con tolleranza H8. Poi comunque andremo a vedere alla fine, verso la fine del filmato, proveremo un paio di questi alesatori per vedere se il foro ha una tolleranza, per quello che posso misurare con gli strumenti che ho a disposizione, una tolleranza accettabile nel range della tolleranza ISO H8. Come vedete si tratta di alesatori che hanno un codolo cilindrico con delle dimensioni un po' bizzarre. Per esempio questo è 6,16 il codolo, questo è 9,04, 7,14. Insomma hanno delle dimensioni un po' strane come codoli. 4,92. Abbiamo quello da 3 mm. Ecco addirittura 3,23. Normalmente un alesatore a mano come questo vedete ha un foro conico e in più ha questa parte che si può usare con una chiave in maniera da poter spingere l'alesatore con la contropunta e tenerlo fermo, farlo girare con la chiave, comunque far sì che l'alesatore possa seguire in qualche maniera il foro, specialmente nei suoi disallineamenti, anche magari il pezzo non è assolutamente centrato. Insomma una cosa di fondamentale importanza è che l'alesatore non sia rigido mentre si infila nel foro che deve lavorare, ma lo possa seguire per compensare gli eventuali disallineamenti di tutto l'assieme che lo guida dentro al foro. Questo perché se l'alesatore fosse forzato a lavorare senza seguire il foro si potrebbero avere delle lavorazioni fuori tolleranza, magari di diametri che non sono nella tolleranza dell'alesatore stesso. Purtroppo questi alesatori qui hanno questi codoli che abbiamo visto, questi diametri un po' particolari, che sono cilindrici. Questo non è un vero foro conico, un foro di lavorazione probabilmente di quando l'hanno creato e quindi bisogna utilizzarli con un mandrino praticamente flottante, un mandrino flottante che possa fare questo lavoro in maniera che l'alesatore possa seguire il foro. Comunque adesso andiamo a prendere un paio di questi alesatori e facciamo una prova sul campo per verificare un po' se lavorano, come lavorano e se sono nelle tolleranze H8 marcate sul codolo di ciascun alesatore. Iniziamo quindi con una punta da 8,8 mm il preforo e poi passiamo all'alesatore da 9 mm a bassa velocità con molta lubrificazione per ottenere la lesatura desiderata di 9 mm. Andiamo a vedere che cosa dicono le tabelle nel caso della tolleranza ISO H8. Per il range che abbiamo scelto, quindi da 6 a 10, la tolleranza che possiamo avere con un H8 è una maggiorazione di 22 micron rispetto al diametro nominale, quindi da 0 a più 22, possiamo avere una lettura massima di 10,022 per restare nell'ambito della nostra tolleranza stabilita. Quindi ecco la parte forata e allesata con un allesatore da 9 mm e adesso l'idea è quella di verificare il diametro del foro interno con questi strumentini, questo misura un range da 8 a 12 mm con questi due puntali telescopici che praticamente prendono il diametro del foro interno, quindi si inseriscono quando sono liberi di muoversi con una posizione angolata, poi si serrano praticamente e poi si mette questo strumentino in maniera perpendicolare al foro e poi si misura l'ampiezza dei due puntali con un micrometro. È una maniera che se fatta con attenzione e con un po' di pratica ci può dare dei risultati abbastanza apprezzabili rispetto al diametro preciso del foro che abbiamo lavorato. A questo punto possiamo andare a misurare, sempre facendo molta attenzione a come si posiziona. Quindi in questo caso nella lesatura di questa boccola, di questo materiale, siamo effettivamente probabilmente dentro le tolleranze H8. Se lo facciamo diciamo semplicemente con il mandrino nella controtesta del tornio, se il mandrino non è perfettamente allineato nell'asse di rotazione o se il pezzo sta girando magari eccentrico, è chiaro che poi posso avere delle tolleranze maggiori perché il foro non viene preciso come è la tolleranza della lesatura. Come ho detto prima, purtroppo sono stati mandati tutti insieme. È buona norma separarli per non farli sbattere anche nei cassetti. Metteteli in dei contenitori o comunque in delle bustine di plastica in maniera da separare i taglienti che non vadano a picchiare uno con l'altro rovinandosi. È comunque una buona serie da avere, magari non per utilizzi professionali chiaramente, però comunque per il nostro laboratorio obistico possono presentare un buon compromesso come rapporto prezzo-prestazione a un prodotto che definirei interessante. Bene, spero che anche questa recensione vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta mettete un like e iscrivetevi al canale come al solito per rimanere informati sulle mie videopillole e sui miei filmati. Grazie per aver visto questa videopillola, questa recensione di questi alesatori e ci vediamo presto qui sul canale YouTube ABG Models oppure sul sito, sul forum www.abgmodels.it. Ciao a tutti da Riccardo. Ciao a tutti.